Ma si no, che ricco ma si no, cha cha cha, che ricco cha cha cha, ma si si no, cha cha cha, che ricco cha cha cha. Mari, Blanca, eccola qui, è in famiglia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E allora ho un piacere sentire queste sonorità che veramente non tengono fermo nessuno. Da Lavana all'Europa il cha 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 veramente non ha confini, ha questo ritmo entusiasmante, lo dicevo qualche istante fa, e tu hai riproposto con la presentazione di questo tuo CD, cha 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 eterno ritmo, proprio il senso di questo entusiasmo. Abbiamo voluto fare un omaggio al cha cha cha, l'opportunità di sentire il primo cha 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 fatto in l'istoria, che si chiama la ingagnadora, sta in queste... Questo è un CD che sta rispondendo già un ottimo successo, ma che noi lo consigliamo fortemente a tutte le amiche che in questo momento sentono e nutrono dentro di loro il ritmo del giro già, perché ci sono tante signore che frequentano balli latinoamericani, piuttosto che balli di gruppo, e che magari poi in casa ripassano le loro sequenzine, i loro passi. Ebbene, questo sicuramente può ottenere compagnia durante la musica. Questa musica è sempre piacevole ascoltarla, ma ovviamente voglio sottoporre all'attenzione dei nostri telespettatori l'originalità e la crescita del tuo lavoro, del tuo progetto, che sarà gratificato anche con l'acquisto di questo bellissimo... Certo, sì, certo, semplice. ...e anche tutte quelle scuole di ballo... Come no, come no? ...e tutte quelle scuole latine che vogliono esaltare ancora di più i ritmi cubani. Cubani, specificamente. Sei anche in giro, in tour, con il tuo gruppo, sarai ospite anche di numerose piazze, con delle serate, con delle ospitate, vero? Sì, 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 sarò in tutta Italia. Quindi, insomma, avete uno spettacolo di genere vario, che va dalla musica d'ascolto a quella, insomma... A questa, effettivamente, il son autentico cubano, che dopo è derivato dalla salsa, o sea, perché la salsa è la mescola del son cubano proprio nato anche in Cuba, noi abbiamo una cosa nostra che non se la trova nessuno. È tipica, è proprio una specifica realtà quella cubana. E, niente, il repettorio mio va su questi classici della musica latino-americana-suramericana fino al giorno di oggi, o sea, facciamo un racconto di tutto. Quindi c'è anche un percorso storico. Esatto. Un iter, insomma, che vuole... È un filo, insomma, che unisce la tradizione storica a quella musicale. Questa musica, come sta cambiando, come è cambiata. Quindi far conoscere la storia di un pezzo significa anche farlo apprezzare di più. Esattamente. Ti ringrazio di essere venuta qui in famiglia, ti auguro, insomma, un grandissimo successo. Ti invito a tornare anche... Grazie. Più in là. Adesso però ci farà ascoltare un altro pezzo. È il bodeghiero? È il bodeghiero. È il bodeghiero, lo ascoltiamo e ballate da casa, vi raccomando. E salutiamo Mari Blanc. Grazie. Sempre in sua casa presente sta il bodeghiero e il c'è alla esquina. In seguida correte allà e con la plata lo incontrerà. Un bodeghiero, che succede? Perché tanto un te... Paga lo che deve, toma chocolate.